Sentiamo Luca Giannelli Da un lampedusiano illustre di oggi a un lampedusiano illustre di ieri da Claudio Baglioni a Domenico Modulli Oscia e ciao per gli abitanti di quest'isola del Mediterraneo e ciao lo hanno detto ieri sera al concerto che ha chiuso la settima edizione di questo festival, di questa Kermesse Canora che ormai fa da vivace appendice alla nostra estate. Protagonisti del concerto ieri sera Daniele Silvestri e Gianna Nannini. È la prima volta che vengo a Lampedusa, ho colto l'occasione di un invito di Claudio proprio perché era un momento che volevo rendermi conto di quello che stava succedendo parlando con la gente che ci abita, quelli che hanno fatto molto per il centro d'ancoglienze. E allora tra chiusura e apertura al via a Genova al 49...